Riciclare può rappresentare una ricchezza anche artistica. Ecco cosa è stato capace di fare un artista barese che ha ripescato dal mare un pezzo di tufo. Ora è un basso rilievo che raffigura San Nicola. Mare d'inverno 2011, domani, toccherà il lungomare del quartiere San Girolamo di Bari. Una serie di associazioni, fra cui 9 maggio e Stella del Sud, provvederanno a ripulire un tratto del lungomare. Pulizia che interesserà anche una parte dei fondali, grazie a un gommone della provincia di Bari. Un'iniziativa che servirà alle istituzioni per prendersi cura dell'ambiente e ai cittadini ad assumere atteggiamenti più responsabili. I residenti del quartiere si lamentano non solo per i rifiuti abbandonati lungo la costa, ma anche per l'inquietante macchia scura che si crea intorno a una boa gialla, un centinaio di metri dalla costa, laddove fuoriescono i fluidi del depuratore. Il dubbio che il depuratore non depuri è più che lecito. I problemi sono due. Il recupero verte su una progettazione che il comune ci dice che sta per realizzare, per portare avanti e per risolvere. Noi rispondiamo con una manifestazione di tanti volontari, di tante associazioni, dove testimoniamo l'importanza che per noi ha questa costa, sensibilizzando il cittadino a partecipare a questa manifestazione che domani ci vedrà tutti i partecipi e che è volto alla pulizia della nostra costa.